Ho aderito molto volentieri, non solo come professore universitario, docente di filosofia di diritto nella mia università, ma anche, e forse direi soprattutto, come garante delle persone sottoposte alle misure restrittive della libertà personale per la Regione Nazio. E io di questo vorrei parlarvi, e da questo punto di vista vorrei parlare. E cioè vorrei parlarvi a partire appunto dalla emergenza carceraria che l'Avvocato Romanelli prima è giustamente evocato. Ed ieri l'ufficializzazione sul sito del Ministero della Giustizia dei dati relativi alle presenze in carcere al 31 di ottobre del 2024. Il 31 ottobre del 2024 in carcere, in Italia parlavamo 62.110 persone. Sono alcune centinaia di persone in più rispetto a quando il Governo ha adottato il decreto sul carcere da scorsa estate, in cui gli effetti evidentemente cominciamo a vedere, così come abbiamo argomentato a suo tempo, essere nulli sulla popolazione del tempo. Si tratta di circa 15.000 persone in più rispetto alla capienza regolamentare effettivamente disponibile dentro le nostre carceri. Si tratta di una condizione di sovraffollamento che incide pesantemente sulle condizioni di vita delle persone in carcere, trattenute in carcere in queste condizioni di sovraffollamento. Io ho visto personalmente nell'estate scorsa l'occupazione delle aule scolastiche di Regina Ceni affinché potessero essere disposte le brande per accogliere le persone che non avevano più posto all'interno delle sezioni. E si tratta di condizioni che diventano condizioni di lavoro impossibili per il personale penitenziario, a partire dal personale di polizia a cui pure il Governo dice di voler mostrare una particolare attenzione. Il personale di polizia che essendo gravemente sotto organico fa nelle nostre carceri turni che possono arrivare anche a 12, 16 io ho trovato ispettori di polizia che hanno fatto turni di 24 ore. Fare turni di 24 ore è essere responsabili da soli perché appunto, cito ancora il caso di Regina Ceni nel carcere di Regina Ceni nel turno di notte c'è un poliziotto per sezione che è responsabile delle condizioni di rannottamento, di vita, degli accidenti di qualsiasi cosa può succedere di notte di circa 100, 150, 200 persone. È una condizione impossibile. È una condizione impossibile innanzitutto appunto per le persone, le persone introdotte. E quindi io vorrei dire che rispetto, diciamo, a questa condizione, a questa urgenza della questione carceraria che imporrebbe scelte radicalmente diverse rispetto a quelle che pure sono state compiute dal governo con il decreto dell'estate scorsa con il presidente Petrelli e molti altri presenti abbiamo condiviso un appello di voto ai parlamentari perché coraggiosamente si possa discutere di un provvedimento di clemenza un provvedimento di omistia in tutto l'unica soluzione oggi per riportare le carceri in una condizione di legalità e quindi consentire alle persone detenute di vivere dignitosamente la loro detenzione e al personale penitenziario di poter svolgere dignitosamente il proprio lavoro. E viceversa noi qui, con questo disegno di legge, stiamo affrontando una situazione del tutto diversa. un disegno di legge che ha per molti versi un'origine propagandistica salvo che poi la propaganda quando diventa realtà diventa pericolosa. Io l'origine propagandistica la vedo in molte norme che sono state fatte e copiate da materiale di propaganda di organizzazioni sindacali, di forze di polizia e che vengono trasposte, sono state trasposte nel disegno di legge originale. E però appunto il problema è quando queste norme diventano realtà e producono i loro effetti, diciamo, sì, all'interno del sistema penitenziario. E mi riferisco non solo agli effetti futuri gli effetti futuri del reato di rivolta penitenziaria reato che potrà essere imputato anche per fatti di resistenza passiva e non violenta e che quindi potrà diventare il veicolo della moltiplicazione degli anni di pena delle persone indisciplinate in carcere oppure delle persone molto civilmente disciplinate le persone che giustamente protestano in maniera non violenta per le loro condizioni di vita e chiedono di poter parlare con la direttrice con il magistrato di Giorgianza, con il garante a me è successo, in questo caso nel carcere domani di Bibbia, di essere chiamato dalla direttrice perché i detenuti, dopo la morte di un loro compagno non volevano rientrare dall'aria e volevano prima parlare con il garante o un magistrato di sorveglianza per rappresentare le loro emostranze sul servizio sanitario all'interno del carcere di Bibbia. La direttrice mi ha chiamato io sono andato a parlare con i detenuti ho fissato un incontro con i responsabili del servizio sanitario interna al carcere, i detenuti sono, così come pacificamente non erano rientrati dall'aria e così pacificamente sono rientrati nelle sezioni questi detenuti ora invece saranno passibili del reato di nuovo competenziario secondo questo rischio di legge non solo, ma basteranno tre detenuti che non rientrano nella loro cella perché vogliono parlare con gli ispettori di sezione che magari non è presente basterà tutto questo a moltiplicare gli anni di carcere delle persone che sono già in carcere e poi ci saranno gli effetti delle persone che si aggiungeranno attraverso tutte le previsioni penali su cui immagino tanti altri che sono entreranno anche dopo che sono entruti in questo disegno di legge che moltiplicano chi ne ha contate mi pare che ne ha contate 24 di nuove fattispecie penali dentro questo disegno di legge e moltipliceranno anche gli anni di carcere e anche le presenze in carcere esatto contrario di quello di cui noi oggi abbiamo bisogno però io voglio dire e concludo perché sono tanti gli interventi previsti non vorrei rubarvi troppo tempo io vorrei dire che gli effetti di questo disegno di legge si avvertono già oggi dentro al carcere perché già oggi si avverte questa idea diciamo così della contrapposizione tra custodi e custoditi tra guardie e lato diciamo così per dirla semplice ed è quello che poi si manifesta nelle proteste nelle violenze in tutto ciò di cui abbiamo visto queste state perché qui non se ne parla perché io ho passato alcune settimane dei mesi estivi a inseguire le proteste dentro le carceri della Regione Razio ce n'è stata più di una settimana e non se ne parla e questo è il frutto di un clima di contrapposizione tra le persone detenute e il personale del penitenziario che invece va svontato bisogna disarmare questo conflitto nelle carceri dando una speranza ai detenuti e dando possibilità di lavoro dignitoso ai personaggi di polizia io credo che questo sia una forse la prima la più urgente delle ragioni per cui appunto bisogna che questo disegno di legge così com'è non sia approvato grazie